Alcuni dei piccoli comuni della Garfagnana sono risultati immuni dall'onda lunga della vittoria elettorale del PD, trascinato dal premier Renzi e dal risultato delle europee. È il caso del neocomune Fabbriche di Vergemoli, nato dalla fusione di fabbriche di Vallico e Vergemoli, avvenuta il 30 luglio scorso, dove ha vinto il sindaco sciente del comune di Vergemoli, Michele Giannini, sostenuto da una lista di centrodestra. Sono logicamente soddisfatto della fiducia che mi è stata concessa, anche perché abbiamo ottenuto un risultato positivo sia nel vecchio comune di Vergemoli che nel vecchio comune di fabbriche di Vallico. Ha prevalso la concretezza del programma elettorale, la conoscenza del territorio, la tranquillità con cui abbiamo presentato le nostre proposte. Ha prevalso alla fine l'essere di quel paese ed essere uguale a tutti quelli che mi hanno votato. Primi punti in agenda? Sicuramente non applicheremo la Tasi, questa è una novità che penso faccia piacere ai nostri concittadini e poi quei piccoli lavori importanti ma che sono stati trascurati negli ultimi anni. Altra roccaforte del centrodestra, in particolare di Forza Italia, dove è stato uno dei comuni con la più alta percentuale a favore della lista di Berlusconi, è Vagli, dove Mario Puglia continua la sua amministrazione ininterrottamente dal 2004 e che spiega così il successo della sua coalizione, che ha ottenuto il 64% delle preferenze. Tenere la fiducia dei cittadini, avendo fatto sul territorio 20 milioni di opere, strade, scuole, piscine e avere infrastrutturato turisticamente con il nostro territorio. Quali sono i primi punti in agenda per questo nuovo mandato? Completare le opere che abbiamo fatto, occupazione, occupazione, turismo e la svuotatura del lago, perché questa riporta turismo in tutta la provincia di Lucca.